GF VIP 7, torna il sereno tra Luca Onestini e Ivana sarà stato il destino che ha voluto che ci rincontrassimo? È tornato il sereno fra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Negli ultimi giorni l'extronista di Uomini e Donne e la bellissima modella cieca hanno avuto qualche dissapore dopo il bacio che Ivana si è scambiata con Andrea Maestrelli durante la serata di San Valentino. Dopo il gioco dei baci i due sono stati protagonisti di una lite dai toni piuttosto accesi. A Luca Onestini non è andato affatto giù il bacio della sua ex sotto i suoi occhi. Dir uguale a LTR LanguGualit dopo il duro confronto sembrava le cose potessero finire nel peggiore dei modi. Invece nelle ultime ore Luca e Ivana si sono riappacificati, rivelando il proprio stato d'animo. Dir uguale a LTR LanguGualit il primo a parlare dopo aver visto la sua ex giù di morale è stato Luca Onestini. Lamrazova è intervenuta con fare affettuoso. Poi si è messa a piangere. Luca l'ha consolata, abbracciandola. Anche il vippone è scoppiato a piangere, Ivana si è stretta a lui. Le lacrime hanno cominciato a scendere e Oriana si è lasciata andare a una frase che potrebbe avere aperto le porte a un futuro insieme. Stau degeaba frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei. N-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus. Cât de sus, pot eu să sac. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns. Pot să mă duc tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei. N-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus. Pot eu să sac.